Iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video. La celebre giornalista e conduttrice italiana, Bianca Berlinguer, nota per la sua rispettabilità nel panorama televisivo, ha gettato l'ombra della controversia sulla sua famiglia. Il motivo? Un comportamento sgradevole della sua stessa figlia, Giulia, che è Bianca Berlinguer. Figlia del celebre leader del Partito Comunista Italiano, Enrico Berlinguer, Bianca ha costruito una solida carriera nel giornalismo italiano. Dopo inizi modesti come redattrice per Il Messaggero, ha debuttato al TG3 nel 1991, crescendo fino a diventarne direttrice. Dal 2016, è la volto di successo di Carta Bianca, un talk show politico. Oltre alla sua carriera televisiva, nel 2019 ha pubblicato il libro Storia di Marcella che fu Marcello. Il rapporto con la figlia Giulia nonostante i legami forti tra madre e figlia, un episodio recente ha scosso la loro relazione. In un'intervista al Corriere della Sera, Bianca ha rivelato di aver contattato il suo avvocato a seguito di un comportamento inaccettabile da parte di Giulia. Dettagli specifici non sono stati forniti, ma l'evento sembra abbastanza serio da far considerare a Bianca azioni legali. Il futuro del rapporto madre-figlia questo episodio ha creato tensioni, ma Bianca Berlinguer mostra determinazione e coraggio nella protezione dei suoi interessi. L'evolversi degli eventi rimane incerto, e si consiglia la cautela nella valutazione delle informazioni. La verità potrebbe emergere solo con il tempo, Bianca Berlinguer, una madre come tutte le altre. Nonostante il successo professionale, Bianca affronta difficoltà comuni a tutte le madri. Educare i figli e porre limiti è cruciale, ma mantenere rispetto reciproco è altrettanto importante. Il rapporto tra genitori e figli è un percorso di crescita reciproca, ricco di gioie e difficoltà. La decisione di Bianca di far valere la legge, nonostante l'amore per sua figlia, dimostra un coraggio che pone la verità al di sopra di ogni legame familiare. In questo, sembra seguire il consiglio di San Agostino, la verità è come un leone. Non devi difenderla, lasciala libera e si difenderà da sola. Grazie per aver guardato, iscriviti al canale e attiva la campanella per ricevere notifiche sui nuovi video.